Adesso arriva un momento giusto per capire chi siamo contro la squadra migliore che potessimo affrontare in questo momento perché dopo la vittoria del derby sono curioso anche di vedere come la mia squadra riuscirà ad affrontare il Como che è una squadra che sta facendo benissimo, ha cambiato allenatore da tre partite e stava già prima facendo molto bene, quindi per noi è il test giusto personalmente per capire il livello specialmente mentale della mia squadra. Io ho chiesto ai ragazzi di risettare quelle che sono state le ultime due partite importanti per noi, per la classifica ma specialmente per la nostra gente, per i tifosi, però adesso dobbiamo rifiondarci nel campionato perché affrontiamo una squadra forte che c'è avanti dei due punti e quindi con l'obiettivo di provare a superarli. I tre punti di sabato contro la Reggiana ci hanno permesso di rimanere aggrappati alle prime, di conquistare punti sulla nona in classifica che è il Cosenze che ha perso in casa e di superare il Palermo, quindi l'importanza dei tre punti contro la Reggiana è veramente tanta roba e lo dimostra la classifica. Dobbiamo sicuramente approcciare la partita in maniera feroce per provare a mettere in difficoltà. Il Como continua a stupire e a far bene nonostante il cambio allenatore e nonostante anche il cambio di identità perché sono due squadre completamente diverse nello stare in campo, nell'approcciare la gara e nella gestione specialmente della palla. Quindi è stato, dal mio punto di vista, molto bravo Fabri e Cassinzio le tre settimane a dare un'idea chiara alla squadra che è molto diversa da quella che allenava Longo ma allo stesso tempo è una squadra con valori sia nei singoli che di gruppo di squadra perché continuano a far bene. Mi immagino una partita difficile perché affrontiamo una squadra che sta facendo bene e che è forte, però sono convinto che la squadra farà una grande partita e sicuramente vivrà una partita che vivrà sull'equilibrio dell'episodio. Quindi speriamo che ancora una volta come ci sta capiranno ultimamente l'episodio sia dalla nostra parte. Da Como in poi abbiamo 15 giorni credo dove dobbiamo fare quattro partite difficili. Como, Cittadella, Cremonese e Spezia. Adesso pensiamo al Como perché come dico sempre facciamo bene la prima che facendo bene la prima ci permette poi di preparare meglio anche le altre. Dispiace che i tifosi non possano assistere dal vivo la partita anche perché sono sempre stati tanti numerosi sia nelle trasferte vicine ma anche in quelle lontane perché penso a Catanzaro, a Cosenza, la loro vicinanza si è sentita tantissimo. Quindi dispiace ma sono convinto che la squadra farà ancora di più, si impegnerà ancora di più proprio perché per poter portare a casa un altro regalo per loro che ci aspettano qua a Modena. Grazie.